Con chi dormi la notte? Con un orsetto? Con un topolino? Nuovo peluche del bambin Gesù? Nuovo peluche della Madonna? Con questo meraviglioso peluche dormirai, giocherai e imparerai le tue prime preghiere. Premendo il pulsante verde sulla sua mano, ascolterai le preghiere pre-registrate. Anche venerdì dio cane! Siganastro! Dio porco! Inoltre puoi registrare la tua preghiera o messaggio personale. Au! Au! Ma chi m'è se in cura? Chi m'è se in cura porco dio? Ci sono molti peluche, ma di Gesù Sito de Mi Vida ce n'è uno solo. Orco dio! Orco dio! Orco dio!